Lo sport come divertimento, ma anche occasione di aggregazione, rispetto e confronto costruttivo con l'avversario, in una parola fair play, sono quelle semplici ma essenziali regole da tenere bene in mente quando si partecipa ad una competizione di qualsiasi categoria e disciplina. Per ribadirne l'importanza, soprattutto tra i più giovani, la direzione regionale della campagna ha organizzato a Napoli, in collaborazione col Comune, la Fair Play Convention 2012, iniziativa dalla forte valenza sociale che mira a sensibilizzare i ragazzi sui valori della lealtà e correttezza nello sport. Una rappresentanza di studenti è stata coinvolta in riflessioni e dibattiti sul tema e alla presenza del sindaco De Magistris sono stati premiati personaggi del mondo sportivo e culturale. Il fair play è uno stile di vita, lo sport in questo è stato sempre in prima linea sulla solidarietà, lo spirito di gruppo, rispettare l'avversario, quindi attraverso lo sport si trasmettono anche valori etici che possono essere da esempio. L'importante è esserci, poi uno gioca per vincere ma il messaggio è quello di rispettare le persone e gli avversari, ad esempio dallo sport è venuto il messaggio che le persone non hanno meno diritti o sono diverse o sono meno uguali perché hanno un colore della pelle diverso dagli altri. Poi questa è una città che punta molto sullo sport, non è solo calcio, non è solo calcio Napoli, ma siamo bravi e forti e diffusi in tutte le discipline. In questi giorni abbiamo anche come amministrazione sbloccato fondi importanti per gli impianti sportivi, stiamo lavorando su cose importanti che nei prossimi cinque anni rafforzeranno moltissimo l'impiantistica sportiva, in modo da consentire a tutti, soprattutto ai più giovani, di far sport. Grazie a tutti.